ma il talibano siamo in via pigafetta via calai cibertano ma chi era il talibano lì chi era all'inizio ma il talibano lo conosci? no era frangopola allora siamo in via pigafettola no no mi chiamo in liguria siamo a sabona chi è Belinda? soprattutto in live così alla capo di Crespio lui qua è alla capo di... oh non si vede nulla non si vede nulla non reddo un cavolo accendila non voci imminenti dice questo? questo qua è lo zio ciccio posso vederlo? c'è la piperchiellina bella? bella? ah guarda si si vede bene esci qua dove esci? coperchiello? no i coperchielli vedi? coperchiello che caberino c'ho io? ora la cosa? adesso è uscita la calla calla dalla galleria ah si si vede bene qua? pezzoko? pezzoko? che c'è il pipolo? quale pipolo? guardami su facebook me e cosa mi ha scritto? facebook te? si perchè 300 erano a favore ah pilla 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 telefono o quello lì con il numero del nemico? no no ma fai vedere il numero quello lì che è delle truffe prendi il numero 06 prendi il numero così lo faccio vedere così me lo ricordo pure nel disco c'è un numero che è una truffa c'è avete 20 euro di credito ve li ingrippano ve li inquazzano e inquadralo e giralo non si vede inquazzolo dammi qua il tipolo allora questo qua il numero del nemico c'è il numero che ciula i soldi 06 però all'incontrario quindi se lo devo mettere come lo metti? eh no devo mettere tipo vabbè comunque questo qua finisce con il 29 hai visto che muscoli vedi è questo qua il numero che gli giri i soldi lo devo io 06 06 quindi a roma 929 929 188 188 29 29 28 28 28 28 28 28 28 riassumendo 06 21 34 perché non fai i selfie non un selfie non un selfie fai un selfie vedi questo bene con la camicia aperta si sembri un bene con le palette quindi poche miseria fa vedere il numero del nemico non telefonate a questo numero qua che finisce con 6 per 3 se ricevete quello non rispondete che vi prosciuga anche la riga ma con il 6 ok la telequetzolo allora 9 29 28 allora 06 29 3 0 1 18 88 29 69 29 29 no 38 29 ma no il 69 no raga tocca qua e e c'è l'acqua e dice tocca qua il video da tre minuti e dispari conferma che dispari conferma conferma che tre quattro minuti e dispari conferma che 3 4 minuti e dispari conferma che 4 e 1 4 e dispari conferma che girano conferma che un plannedo ci capa avete a fare allora 2 minuti e tirate che se Bellino 50 gradi e r Geraldino per la